Basta, grazie. Basta, grazie. Signori e signori, buonasera. Siamo arrivati al Club della Serata. Siamo arrivati al momento Club della Serata. Abbiamo questa sera l'onore, io e la direzione che tra l'altro offre questo personaggio che sto per presentarvi gratis, in quanto non viene pagato, e ho l'onore di darvi, di presentarvi questo grande personaggio, che è un chitarrista, un pagnolo, forse andaluto, andaluto dalla vita, non lo so. Abbiamo con noi questa sera questo famoso chitarrista, è un personaggio molto timido, ha bisogno di essere coccolato, cioè voi dovete cercare di batterle le mani, di accoglierlo come se fosse, anche se ho spuntato, scusi, in una famiglia, cercate di renderlo felice. Signori e signori, abbiamo con noi, per la nostra gioia e per la vostra gioia, il famoso chitarrista, il famoso chitarrista, Aderardo Narquis. Signori e signori, abbiamo con noi, il chitarrista spagnolo, Aderardo Narquis. Io mi chiamo, signori, Aderardo Narquis. Io mi chiamo, Aderardo Narquis, per favore, a me non lo so. Io mi chiamo Aderardo Narquis, che sei un tocatore di gitarra, un tocatore di gitarra. Quiero che, per favore, mi chiamo a parlare, per favore. Eh? Mi chiamo a parlare, per favore. Aderardo Narquis. No. Quiero toccare stanocce una canzone del bocadillo come ne queso, mucha cerveza, mantechilla, del prevo del perro del pescado, la caída di mia madre. Cioè, in traduzione? Aderardo Narquis. Una canzone molto appassionata. Una canzone che toco per voi e per noi. Grazie. Siete io. No hable, per favore, che mi hai fatto? No hable di nada. Deccami solo toccare la gitarra, se no te fracassano la lupina e il liobarro. Vabbè, lupina sì, ma l'obarro... Io te fracassano tutto. Cuidado. Bravissimo, bravissimo, bravissimo. Una canzone... Una canzone... Una canzone andalusa. Una canzone andalusa. Che hable di mia madre? Berarda Narquis? Adelina Narquis. No, Berarda. Adelina Narquis. Adelina. Mi madre stava trabajando un dia... Sua madre stava... Por favor, dècamme solo! Se tabacava. Se stava... No tabacava, trabacava, che tabacava. Mi madre non tabaca. Trabaja. Pudra, tabaca. Un dia, cantando una canzone di bocadillo come ne queso, con mucha cerveza, mantequilla del prevo del perro del pescado... Pudra. Cuidado che io te disintegro il liobarro. Cuidado che te fracassi il liobarro. Guidanissimo! Un dia, mi madre stava trabajando in la giunchiera. Stava trabajando in la giunchiera... E il suo tabacco... E il suo tabacco... ...estava portinara. Intanto faceva la portinara. Limpiando tu del dia le scalera... Limpiando, pulendo, pulendo, limpiando le scalera... A Gerardo Norkins! Bailaba... ...al tocco de la suelita. Tom, tom, tom... Tivola, tar... Tivola, tar... Tivola, tar... Tivola, tar... Tivola, tar... Tivololululu, tar... Tivola, tar... Náquere. Contigo. un dia mia madre in la terrazza stava lavorando stava lavorando in la terrazza por favor quando c'era un vento un vento di molto lejos un vento che arrivava da l'Andaluccia da l'Andaluccia il vento dice a me argo mi vento è solo del vento e non ridi che ti fracassi un liomaro por favor con la mia vento scusami stava lavorando con la mia vento con il vento mi madre con il vento se ca... se ca... se ca... se ca... come si dice topicò topicò se topicò in italiano è sto? burro io topicò se topicò por la escalera e se fracassò in la portineria peccato peccato mi madre è stato incinta di me di lui Averardo Anorquis ultimo mese e quando è stato in portineria por terra mi madre io sono nascito e tutta la gente mi ha detto ciao Averardo per favore e le dite 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 da di questa dite voro cantale un cantale è molto appassionata molto appassionata questo con la guitarra è un checo E senza? Una checa. Silenzio! Che rides do mutilatino, por favor. Che imbecile, tu es un grande imbecile. Guitarrista! Classico. Il mio accordo base è questo. E da P non mi muovo più. Almeno che non abbia a disposizione un barret che pongo a capotasto e faccio smulinare la mano su un manico. Con uno smulinio continuo, smulinando, smulinando. E ti angiù la farina. Ma mi ingoini per piacere! Esta noche quiero cantar una canción. Una canción? Chiedo toccare una canción. No! No! il presentatore mi ha detto fai il numero te io per esempio con quella mano lì, questa mano qui questo qui non è una mano questa qui è una lama una doppia lama attento eh hai visto quel moscone? vabbè se vuole ancora si ma non sarà più padre attento eh il bagnone il bagnone il bagnone non vado più a capire il bagnone a capire il bagnone